e ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video oggi vi spiegherò come mettere le mod nel nuovo minecraft 1.6.1 come ben sapete ho fatto alcun video che il minecraft è cambiato non è più il vecchio minecraft con il vecchio launcher e tutto e quindi ora c'è un altro metodo per mettere le mod allora come mettere mod nel nuovo minecraft basta andare su %updata % come sempre .minecraft e poi qui come vedete ci sono più... se voi avete sia il vecchio minecraft più il nuovo minecraft avete un po' di di file qui in più dovete andare in... scusate che l'ho messo... ecco qua in version qui e poi qui ci saranno tutte le versioni in cui avete giocato io per esempio ho giocato la 1.6.1 1.6.1 forge e questo poi ci sarà comunque ehm... voi andrete nella versione in cui state giocando come volete voi per esempio vado sulla 1.6.1 e vi do un consiglio meglio salvarvi questa cartella qui che sarebbe un file jar java ehm... meglio salvarvelo perché ehm... se in caso mai ehm... le mod che voi inserite non sono compatibili oppure ehm... non so non vanno ehm... vi consiglio di eliminare quella modificata e mettere di nuovo quella... ehm... quella... all'inizio basta che voi fate... andate in questa cartella tasto destro apri con set zip io apri con questa zip voi apri con quello che volete qui ci sarà la cartella meta-inf ehm... sotto a queste basta che voi la cancellate ehm... inserite tutte le... le mod che volete se vi ora ho inserito 2myidams qui dentro ehm... e quindi se apro il nuovo minecraft ecco qui play un po' lento più che un po' di programmi aperti ecco qui andiamo su un single player così veloce ok facendo... ehm... facendo è... ci sarà 2myidams come vedete quindi... mh... cioè è molto più comodo rispetto al vecchio minecraft ehm... il fatto che si può avere più di una versione e con questo vantaggio delle mod voi... puoi... puoi mettere diciamo con diverse versioni le mod che volete voi questo è un buon vantaggio bene... ehm... il mio breve tutorial finisce qui ehm... vi ricordo che se vi è piaciuto il video di mettere mi piace e iscrivervi ehm... ciao e al prossimo video ciao 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 ciao